Nel mondo della morte noi dipendiamo dalla nostra conscienza di Cristo quindi questo è molto importante e Prabhupada è stato il nostro salvatore perché lui parlava di questo io non voglio cambiare ma allo stesso tempo però se noi non siamo consapevoli di cosa sta succedendo ai segni praticamente diventa un giochino che tutto va bene non sta succedendo niente di male i nostri bambini verranno da noi e ci diranno io sapevo che te dovevi servire il Supremo e te hai permesso che succedesse di questa schifezza te non ti sei attivato per difendere le nostre sementi i nostri semi io penso Guru Maharaj pensa che anche se Chaitanya Mahapra sarebbe davanti proprio al movimento per i semi Lui ha stabilito quello che ha fatto lui è stato che ha stabilito il diritto degli induisti di praticare l'induismo in Bengala perché i buddhisti e gli smart abrahmanali li volevano tenere sotto controllo e lui gli è andato contro in tanti modi Chaitanya Mahapra è andato contro gli abusi sugli esseri umani è andato contro quelli degli tantrici ha predicato contro il concetto buddista dell'emancipazione quindi Chaitanya Mahapra non era uno di Haribola Haribola e niente altro è un'immagine sbagliata mi sembra e era con la gente potente era il consigliere di Sarvamo Mabattacharya e di Ramanandaroy che erano i consiglieri del re però lui ha esibito anche la sua Madia Lila dice quelli che leggono l'inglese c'è un maragini da un messaggio delle nazioni unite dello spirito questo qui è solamente l'invito al sito internet in modo che voi capiate cosa sta succedendo io il maragini dice che andrà adesso in Messico con uno dei più importanti leader per incontrare i leader delle antiche tribù e discuteremo dei diritti di Madre Natura e che fare nel desiderio di servire Madre Terra e Madre Terra è anche Padre Sole e anche il Santo Nome di Krishna non c'è differenza fra questi e è per questo che ho parlato di queste cose anche se io accetto che può essere noioso boring noioso ma per esempio parlare di cibo non è un soggetto molto interessante quando parliamo dello zucchero bianco e anche di altre cose come per esempio gli oli però è un fatto che lo zucchero bianco è un veleno e anche un fatto il fatto che noi siamo drogati da questo e anche che qualche volta consumiamo degli oli che sono transgenici perché costano poco perché noi non vogliamo indagare però in definitiva noi siamo ignoranti quindi io sono un piccolo umile servitore e so che voi siete italiani ovviamente non realmente italiani voi siete anima eterna non italiani però vi voglio assoldare come voi siete state capaci di fare tutto bello in Italia i vostri altari sono bellissimi e le vostre case i giardini sono belle io voglio questa perfezione e estetica anche in la forma di come deal con la madre io vorrei e voglio che questa perfezione estetica e questa bellezza sia anche nell'avere a che fare con madre terra e che in modo vi diventiate leaders della comunità artistica del mondo e dovete essere leader anche nell'arte di proteggere madre terra il fondatore del movimento dello slow food è italiano e Maria Montessori era una grande visionaria dell'educazione e anche lei veniva dall'Italia quindi dobbiamo fare qualcosa io sono venuto per reclutare per questa posizione di cura perché voi avete un grande talento per questo ovviamente tutti quelli che sono nel mondo possono fare i tedeschi sono conosciuti per essere gente sistematica però loro usano il loro pensiero sistematico per tutte le stupidità possibili perché sistematico non significa che uno si prende cura o che fa che cura il bello che cura l'estetica la sofisticazione tedesca è la sofisticazione delle camere a gas loro possono farlo chiedi là tutto il meccanismo chiude la porta poi viene fuori il gas però per capire quello che quello del quale ha bisogno il mondo anche per quanto riguarda il colonialismo anche gli italiani sono stati colpevoli però però tutto sommato non ci sono stati italiani hanno stati colpevoli sì in Etiopia Somalia non è attiva lui chiedeva Somalia no non è attiva non è attiva non è attiva non è attiva ma è attiva in attiva in attiva Somalia Eritrea Libia l'Africa 5 anni 5 anni 5 anni solo un'altra cosa sembra che gli italiani non credono molto nel colonialismo sì di loro non non si l'Argentina ha invadito l'Argentina ha invadito per i morti morito Grazie.